Il retail sta evolvendo molto molto velocemente e nel DNA del retail è essere veloci. Stanno cambiando tanti consumatori, consumatori che sono molto più esperti, molto più consapevoli, molto più demanding verso i brand e verso i retailer. Siamo arrivati in una fase dove il cliente vuole fare tutto in qualsiasi touch point, vuole fare tutto nello store, vuole fare tutto nel digitale, senza nessuna barriera dettata dalla tecnologia o vincoli tecnologici. Quindi i retail si trovano a una sfida grossa che devono innovare a livello tecnologico per mettere ai clienti di fare tutto in qualsiasi posto senza che questo comporti alcun vincolo, senza nessuna frizione. Questo comporta grossi investimenti e comporta in tecnologia. Guarda, l'invito l'ho accettato molto molto volentieri perché penso che sia lo scopo che ha il retail hub di lavorare su start-up e sullo scaling è correttissimo, lo dice un retailer come Pinalli, perché ce lo chiedono i clienti. I clienti vogliono cose nuove, che sia un brand, che sia una tecnologia, che sia un sistema di pagamento, che sia un servizio, vogliono provare cose nuove. Le cose nuove molto spesso vengono da start-up, da idee innovative. Noi come Pinalli vogliamo collaborare con Retail Hub perché troviamo un ecosistema dove possiamo trovare quelle soluzioni che ci vengono chieste anche dai consumatori o trovare anche quei brand da poter far crescere in una logica di retail hub.